Ah, poi che c'è? Ah, visto che siamo nei cento anni di Rodari c'è anche Alice Cascherina che cascava tutti i giorni dalla sera alla mattina. Ma come ti sei pettinata? Sempre così. E il leone, tantissimi altri, altro gatto e poi c'è, siccome siamo in Liguria, non può mancare lui, il pesce.